Il Paradiso delle Signore, gli attori di Salvatore e Maria, sono una coppia. Nel Paradiso delle Signore, sono spesso protagonisti gli amori che nascono tra i vari personaggi. Il pubblico segue sempre con interesse le vicende romantiche dei vari volti della SOP. Stavolta però, due attori che si sono conosciuti sul set, hanno intrapreso una relazione nella vita reale. Si tratta degli interpreti che prestano il volto a Salvatore e Maria. Il Paradiso delle Signore, Emanuele Caserio e Chiara Russo stanno insieme. Nel Paradiso delle Signore, Maria è sempre stata la protagonista delle puntate della sesta stagione, per via della sua travagliata relazione con Rocco. Dopo essersi recato a Roma infatti, quest'ultimo si è infatuato di un'altra ragazza, e ha deciso di lasciare Maria, con cui si stavano preparando le nozze. Anche se inizialmente non ci ha voluto credere, la Puglisi si è dovuta arrendere alla verità, dopo aver fatto un viaggio nella capitale. Maria e Rocco quindi, si sono definitivamente lasciati. Per Salvatore la situazione è ben diversa dato che, proprio sul finale della sesta stagione, per lui è arrivato il tanto atteso matrimonio con Anna. La figlioletta di quest'ultima Irene, ha anche dichiarato di voler rimanere a Milano, rendendo tutti molto felici. Ora però, arriva un'indiscrezione quasi certa su una relazione nata tra Emanuele Caserio e Chiara Russo, rispettivamente gli attori, che interpretano Salvatore e Maria. I due si sarebbero conosciuti, per la prima volta proprio sul set del Paradiso delle Signore, e li sarebbe nata una bella storia d'amore. Ormai Emanuele e Chiara sarebbero inseparabili, come avevano già intuito i fan da qualche tempo. Sono molte le foto sui social di Caserio in cui compare anche la Russo, e in alcuni casi le didascalie sono inequivocabili. Infatti, l'interprete di Salvatore ha anche scritto, commentando un'immagine in cui appare in compagnia di Chiara, che è sempre bello iniziare la settimana, con il sole accanto. Non sembrano esserci dubbi sulla relazione che è nata tra i due. Nonostante non ci siano video o immagini a provarlo, sembra proprio che Emanuele Caserio abbia deciso di uscire allo scoperto, rivelando ai fan la relazione con Chiara Russo. Questo sarebbe avvenuto durante un evento che si è tenuto a Roma negli ultimi giorni. Rispondendo alle domande dei fan presenti, Emanuele ha confermato di avere una relazione con Chiara. Non esiste nulla di certo in merito, ma ormai la storia d'amore con l'attrice che interpreta Maria, sembra essere sicura al 100%. Le dediche d'amore sui social non mancano, come ormai sono diventate tante le fotografie in cui Caserio compare al fianco della Russo anche in occasioni, che non centrano con il lavoro sul set. Di conseguenza, è probabile che presto arrivino ulteriori conferme di questa relazione. Ormai le riprese sono finite ed anche le puntate della sesta stagione sono arrivate al termine. Durante i mesi estivi, gli attori del Paradiso delle Signore comunicano con i loro fan sui social, dove di tanto in tanto lasciano qualche anticipazione sulla stagione successiva. E' quindi probabile che, approfittando del periodo di stop, Chiara Russo ed Emanuele Caserio si mostrino insieme o in vacanza, ufficializzando quindi la loro relazione. Non si tratta dei primi protagonisti della soppa a conoscersi sul set ed intraprendere una relazione. Nello specifico successe lo stesso anche a Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso, che interpretavano Roberta Pellegrino e Antonio Amato. I due alla fine, si sposarono. I fan della nuova coppia sperano che anche gli interpreti di Maria e Salvatore, possano avere presto lo stesso destino. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questa coppia e vi piacciono i personaggi, che interpretano i due nella soppa? A voi i commenti! Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Al prossimo episodio